Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video allenamento. Io sono Lorenzo, sport manager della GetFit di Vieravizza e oggi ci alleneremo insieme con Cardiotone, un allenamento che mixa esercizi cardio, quindi volti a bruciare grassi ed accelerare il nostro otabolismo, con esercizi tono, quindi volti a migliorare e a rafforzare il nostro tono muscolare. Cosa ci servirà? Un tappetino, avremo anche la musica ma è soltanto come sottofondo, quindi non sarà un allenamento coreografato. Piano d'allenamento, un riscaldamento iniziale di 2 minuti, 6 esercizi, ogni 20 secondi cambieremo esercizi e scalderemo tutto il corpo, 3 circuiti a tempo e alla fine un po' di defaticamento e sano stretching. Bene, direi che siamo pronti a cominciare. Accendo la musica. E si parte. Riscaldamento ogni 20 secondi si cambia. Inizia a correre sul posto, inizia a rilassare le braccia, a smuovere tutto il corpo. Respira profondamente, stai dritto con la schiena, 6 secondi. Il prossimo esercizio sarà una calciata dietro, quindi porta i talloni verso i glutei e accelera gradualmente. Ginocchia vicine, caviglie vicine. Secondo dopo secondo porta i talloni sempre più su verso i glutei. Muovi le braccia, scalda il corpo, prepara il cuore. Abbassa le spalle, 3, 2, 1, apri la base d'appoggio, squat. Scendi e sali. Così. Stringi l'addome. Il ginocchio non supera la punta dei piedi. 6 secondi. Sei a metà del tuo riscaldamento. 3, 2, 1. Base d'appoggio sempre ampia. Vai a toccare in maniera alternata le ginocchia con le dita delle mani. Petto alto. Sguardo avanti. Scalda l'addome, scalda gli obliqui. Sbilancia il peso. Destra e sinistra e viceversa. 4, 3, 2, 1. Facciamo salire il cuore. Shuffle frontale. 1 e 2. Muovi anche le braccia. Avanti e dietro. Ginocchia morbide. Caviglie morbide. 10 secondi. Poi un ultimo esercizio. Per scaldare la parte superiore. 3, 2, 1. Gamba forte avanti. Jabs. Pugni in diagonale. Ruota il polso. Spara alto. Addome forte. Peso in avanti. Pugni, pugni. 5, 4, 3, 2, 1 more. Stop. Riscaldamento finito. Cuore alto. Muscoli pronti. Primo circuito. Cardio. 30 di lavoro. 10 di recupero. Quattro esercizi che ripeteremo per due volte. Primo esercizio. Skip alto. Secondo esercizio. Speed jack. Terzo esercizio. Terra. Bolt. Quarto esercizio. Jump. Rientra. Ovviamente avremo le opzioni che vedremo più tardi. Pronti a cominciare. Primo esercizio. Skip alto. 3, 2, 1. 30 secondi. Via. Skip. Corri. Solleva le ginocchia. Petto grande. Addome forte. Fai andare le braccia. Coordinali con la parte inferiore. Opzione. Marcia veloce sul posto. 1, 2. 10 secondi. Grazie. Butta fuori l'aria. Schiera dritta e lunga. 3, 2, 1. Recupera. Secondo esercizio. Speed jack. Mani tese su. Apri e chiudi. 3, 2, 1. Via. Rapido. Porta i piedi in dentro e i piedi in fuori. Interno e esterno. Braccia su. Schiera dritta e lunga. Addome forte. Petto aperto. Opzione. Apro, apro, chiudo, chiudo. In e out. 10 secondi. Aumenta la velocità. 4, 3, 2, 1. Easy. Viene a terra. Bolt. Mani larghezza delle spalle. Gambe tese. Via. 1, 2. 1, 2. Opzione. Appoggia le ginocchia. Piedi aperti quanto le anche. Porta il gluteo indietro verso i talloni. Esplodina avanti. Allinea le mani e le spalle. Dietro. Avanti. Uno in più. Stop. 10 di recupero. Ultimo esercizio per il primo round. Jump. Rientra. 3, 2, 1. Vola. Un salto. Corri indietro veloce. Jump. Rientra. Opzione passo e squat. Torna indietro. Metà. 15 secondi. Salta in alto in avanti. Resta basso. Corri indietro. 1, 2, 3, 4. Squat jump. Quindi, a terra in squat. Corri veloce. L'ultimo. Stop. Respira. 10 secondi. Tutto da capo. Skip alto. 3, 2, 1. Skip alto. Vola. Solleva le ginocchia. Crea. Angolo gamba coscia. Molto gradi. Stiamo sudando. C'è l'effetto cardio. 10 secondi. Aumenta. Solo 3, 2, 1. Rallenta. Secondo esercizio. Speed jack. 5 si parte. Vieni in piedi. Afferra le mani. Vola. Destra e sinistra. Apri e chiudi. Quando apri, simula un ottavo di squat. Parliamo della parte alta. Se guardo in alto, non vedo le mani. Sono troppo su. Sono troppo in linea con le spalle. 10 secondi. Ehi. Il cuore sta arrivando in gola. 3, 2, 1. Stop. Tappetino. Terra. Bolt. 5 si parte. Appoggia le mani. Stendi le gambe. Via. 1, 2. Caricati come una molla. E poi spingi in avanti. Le punte dei piedi non si muovono. Le mani non si muovono. Muovi tutto il resto. Chiudi e apri. Dietro e avanti. Respira, eh. Mai apnea. Devi avere le guance rosse come Heidi. L'ultimo. Stop. Vieni su. Ultimo esercizio. 6 secondi e si parte. Jump. Rientra veloce. Pronti? Si vola. Un jump. A terra. Corri veloce. Rimani basso nella corsa. Muovi anche la parte alta. 10 volati. Ricorda sempre le opzioni. Avete ragione che è l'ultimo esercizio del primo circuito. 5 secondi. Ce ne sta ancora uno. Stop. Un minuto di recupero. Rifiata. Bevi se vuoi che fa caldo. Ma il vero caldo l'hai creato con riscaldamento e primo circuito. Ottimo fin qui. Secondo circuito. Tono. 30 di lavoro. 10 di recupero. Quattro esercizi che vedremo due volte. Guarda il primo. Combinazione. Squat. Affondo avanti. Cambio gamba. Secondo addome. Il più completo. Sit up frontale. Terzo esercizio. Parte alta. Push up. Quarto esercizio. Richiamiamo ancora l'addome. Ma la parte laterale. Il più completo. Sit up obliquo. Che so che vi piace tanto. Abbiamo ancora 10 secondi al nostro start. In piedi. Gambe. Squat. Doppio affondo. Alternato. 3. 2. 1. Uno squat. Un affondo. Un altro affondo. Uno squat. Affondo. Affondo. Squat. Avanti. Avanti. Fondamentale ragazzi allenare le gambe eh. 10 secondi. Un giro in più. Stop. Recupera. Cappettino. Terra. Appoggio il gluteo. Appoggio i piedi. Srotola la colonna. Sit affrontale. Via. Sali e scendi. Arrotola e srotola la colonna. Verso l'avanti. Spingi i glutei e la pianta del piede a terra. Aiutati con le braccia. Stacca e solleva le spalle. 10 istanti ancora. Porta il petto alle ginocchia. Sfidati. Più veloce possibile. 3, 2, 1, stai. Cambio posizione. Questa volta l'addome in giù e il dorso in alto. 5 si parte. Push up. 3, 2, 1, start. Guarda il mio mento. Portalo avanti. Crea una diagonale con i gomiti. Opzione. Ginocchia in diagonale rispetto ai glutei. Scendi e sali con me. Down, up. 8 secondi. Allena la parte alta. 4, 3, 2, 1. Stop. Girati. Ricambia posizione. Quella del secondo esercizio. Schiena. Addome in alto. Si tappo obliqui. 3, 2, 1. Ruota. Sali e ruota. Ok, porta i gomiti al ginocchio opposto. Quando sei a metà nella tua salita, ruota il busto. Direzione al movimento. Diagonale della stanza. 10 secondi. Lo sai cosa dico, vero? Fai sorridere il tuo addome. 5 in più. L'ultimo. Stop. 10 secondi. Torna in piedi. Ricomincia le gambe. 3, 2, 1. Squat. Affondo. Cambia. Ok, rispetto a prima, vai più profondo nello squat. e vai più lungo nell'affondo. Giù. Avanti. Dietro. Avanti. Dietro. Alterna le gambe. Squat e affondi. Cosa vuoi di più a corpo libero? Aiutati sempre con le braccia. Nello squat. E negli ultimi due affondi. Stop. Capitino. Terra. Sit up. Appoggia la colonna, appoggia la testa. 3, 2, 1. Sali. Scendi. Ok, secondo round. Rispetto a prima. Sali di più con le spalle. Sali di più con il petto. Contrai di più l'addome. Vietato sgonfiarlo. 15 secondi. dati spinta con le braccia. Il dorso accompagna. 8 in più. Ci sei quasi alla pausa. Fai le due. Fai le una. Stop. 10 secondi. Girati. Push up. Piegamenti sulle braccia. 5 si parte. Sono 3. Sono 2. E 1. Start. Opzione avanzata. Pugni. Via. Anche questa so che vi piace tanto. 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Stop. Rigirati. Sit up. Obliqui. Appoggia i piedi. Appoggia i glutei. 3. 2, 1. Sali e ruota. Butta fuori l'aria quando stai sforzando l'addome. Come una molla. Appena le spalle toccano tu sali su. 15 secondi. 10 secondi. Così. Grande lavoro completo sul tuo addome. 3, 2, 1. Easy. 1 minuto. Rifiata. Sciacquati, pulisci, ti bevi. Pronto per un ultimo circuito. Mettiamo insieme tutto. Una parte cardio. Una parte tonio. 30, 30 e 30 di recupero. 30 secondi di cardio. 30 secondi di cardio. 30 secondi di tono. 30 secondi di recupero. 4 esercizi. Li ripetiamo 2 volte. Mixiamo tutto. Guarda il primo. Siamo a terra sui push up. Piego. Tocco la mano con la spalla opposta. Push and tap. Subito senza pause. Vieni in piedi per un jumping jack. 30 e 30. Gli altri li vediamo all'interno del recupero. Ok. Un minuto esatto. Pronti a partire. Tappetino. 3, 2, 1. Push and tap. Piega. Tocca. 1 e 2. Ricorda l'opzione che hai visto fino adesso? Vai a appoggiare le ginocchia se vuoi. Oppure stai sui pugni. 15 secondi. Sei a metà. Quando arrivi giù, schiora con il petto a terra e poi staccati. La mano, quando tocca la spalla, crea un disequilibrio. 5 secondi. Fai l'ultimo. Stop. Vieni in piedi. Jumping jack. Via. 30 secondi. Rapido. Opzione. No fase di volo. Quindi apro, chiudo. Cordina parte alta e parte bassa. Stringi l'addome. Fuori il fiato. Veloce. 10 secondi. Stringi. 5 secondi. 3, 2, 1. Rest. 30 secondi di recupero. Guarda i prossimi due esercizi. Squat braccia tese. Mountain climber frontale. 15 secondi si parte. Rifiata. Recupera. Respira. Intanto avvieni in piedi. Pronti con lo squat? Abbraccia tese. 3, 2, 1. Via. Mani ben aperte che si guardano. Scendi e sali. su e giù. Dietato muovere le braccia. Aprile quanto le spalle. Ancora per 12 secondi. Ginocchia in fuori. Sposta il peso sui talloni quando scendi. 4, 3, 2, 1. Mountain climber. 30 secondi. Rapido. Veloce. 1, 2. Opzione. Vai più lento. o appoggia le ginocchia. Se sei con me. Zero opzioni. Solo superare il limite. Via. Così. Pugni se vuoi. O palmo della mano. 5 secondi. 3, 2, 1. 30 secondi di rest. Ok. Due andati. Guarda. La terza sequenza. Combinazione. 30, 30. Push up. Tocco la mano. Poi andiamo in piedi. Back kick. Opzione. Calciata. 11 secondi. E ci sarà il semaforo verde. Prendi posto sul tuo tappetino. 5 secondi e si parte. Sciogli le braccia. Push and tap. Via. Piego. Tocca. 1, 2. Schiaccia la talpa. Avanti con il mento. Forte sulle spalle. Se vuoi. Appoggia. Continua. 9 secondi. Dai. Poi andiamo in piedi e saltiamo un po'. Fai l'ultimo. Stop. Vieni su. Back kick. Ginocchia vicine. Porta i talloni verso i glutei. Opzione. Calciata dietro. Con il riscaldamento. Ginocchia a larghezza delle anche. Scendi e sali. 15 secondi. Se sei con me, sei una molla. Sali e scendi. Veloce. 4, 3, 2, 1. Easy. 30 secondi di rest. Prepariamoci per il quarto circuito. Addome. Total crunch. Secondo. Barpees. Pronti a partire? 10 secondi al via. Vieni a terra sul tappetino. Appoggia il srotolo alla colonna. Total crunch. 3, 2, 1. Via. Apri le braccia. Abbraccia le ginocchia. Così. Solleva le spalle. Solleva il dorso. In equilibrio sui glutei. 10 secondi. Tie lì. Gli ultimi. 4, 3, 2, 1. Girati. Barpees. Col jump. Opzione. Passo passo. No jump. Passo passo. Barpees non può mai mancare nel tuo programma d'allenamento. Stendi la toga e stendi le gambe. Vieni su. Quando scendi, ammortizza i squat. Plank. Squat. Jump. Lo sai. Fagli ancora due. Stop. Easy. Come stai? 30 secondi. Recupera. Riparti. Dal primo circuito. Push. Tap. Jumping jack. 30 più 30. 10 secondi. E rischiacceremo play. Preparati. Non sapevo di avere una sauna in casa oggi. 3 secondi. Si parte. Tocca e tocca spalla. Pronti? Via. Esplodi sui pettorali. Ritama le spalle. Respira. Ti devo sentire da qua. Sei pronto a salire in piedi? 10 secondi. Grazie. Gli ultimi. Stop. Vieni su. 30 secondi. Jumping jack. Via. Come hai visto? I cambi sono rapidi. No tempi morti. Le mani dalle anche al cielo. 10 secondi. Riempi e svuota i polmoni. 3, 2, 1. Lascia andare il crometro. 30 secondi di recupero. Ti ricordi? Squat braccia tese. Mountain climber frontale. Sei in metà recupero. 15 secondi. Pulisci il sudore. Riordina le idee. Pronti a partire? 5 si va. Gamma e glutei. 3, 2, 1. Giù. Su. La tua testa è incastrata fra le braccia. Piedi appena appena oltre le anche. Ginocchia che puntano in diagonale. Non superano però mai le dita dei piedi. Glutei giù, glutei su. Ehi, 5 secondi. Fai l'ultimo. Tappetino, corri mountain climber. Via. Detta ritmo in base a come stai. Se sei con me, lo sai già, è una sfida. Stimola la tenuta sulla parte alta. Stringi forte l'addome. E fai andare veloci le gambe. 10 in più. Ogni colpo fuori l'aria. 2, 1. Lascia andare il recupero. 30 secondi di rest. Ti ricordi? Push. Tappo sulle mani. Butt kick. Questo è un grande allenamento per accelerare il tuo metabolismo. Allenare i tuoi muscoli senza gonfiarli eccessivamente. Tonificandoli e rafforzandoli. Ok. Il mio cronometro dice 5 secondi. Preparati in posizione push up. Via. Push. Tocco. Push. Tocco. Quando incroci le mani, senti come il petto si stringe, andando da una parte e poi dall'altra. Ehi, ti sei allenato tutta la quarantena. Ormai sei fortissimo. Tieni questi 8 secondi. 4 secondi. Stop. Vieni in piedi. Butt kick. Parti basso. Scalcia, terra e squat. Rapidità, velocità. Appena tocchi, salta. Opzione. Resta. Salta. 6 secondi. 3, 2, 1. Ehi. Sei arrivato fin qui. Ultimo recupero. Ultimo minuto. Total crunch. Barpees. Mix. E sarai felice. 12 secondi al verde. Preparare il tappetino. Preparare il tappetino. La mente e il corpo. Connect. Pronti? 3, 2, 1. Apri e chiudi. Ginocchi al petto. Apri. Chiudi. sali con le spalle. Dai il colpo con l'addome. Stendi le gambe. Chiudi le gambe. Andiamo a te con un po'. Che dite? 5 secondi. L'ultima. Stop. Barpees. Sfila. 30 secondi con i jump. Dai. Con la musica insieme. Salta dritto. Scendi. E piega. 10 da adesso. 5 secondi. Fai l'ultimo. Bam. Uh. Riffiata. Lascia andare 30. Recupera. Bevi. Impreca se vuoi. E riffiata. Uh. 10 secondi. Partiremo con un po' di stretching. Total stretching. Abbassiamo la musica. Ok. Ok. Da qui. Appoggio il ginocchio. Stendi la gamba opposta. In diagonale. Con respiro aiutati. Prendi la punta dei piedi. Tirala verso di te. Stira tutta la catena posteriore. Fletti appena appena la colonna. Apri i polmoni. Centro e cambia. Come stai? Come è andato questo cardio tone? Faccelo sapere giù nei commenti. Ma soprattutto allenati con noi. Torna al centro. Porta la mano avanti. Tira le dita verso di te. Alleggerisci i glutei. Stai dritto col busto. Lascia andare e prendi l'altra. Siamo stati tanto in push up. Si sente tutto eh. Petto, abbracci, spalle. Tricipiti. Lascia andare. Fai un bel respiro. Butta fuori. Applauso. Cinque vettuale. Ragazzi, bravissimi. Siamo arrivati fin qui. Ci siamo tenuti compagnia per un sacco di tempo. Quindi ormai sapete quello che vi sto per dire. Continuate ad allenarvi a casa con noi semplicemente con un tappetino con la propria forza di volontà e continuate a rimanere sintonizzati sui nostri canali GetFit Instagram, YouTube, Facebook per comunicazioni e video da parte mia e dei miei colleghi. Un saluto. Buon allenamento e ci vediamo presto. Ciao!